Dico delle cazzate su internet, dico dei miei pensieri. Il pensiero di stasera è questo, stavo leggendo una serie di articoli riguardanti Alberto di Verdena che è andato a suonare con il Little Piece of Marmalade da X-Factor, hanno fatto una c***a di muori di lei e tanta gente si è incazzata dicendo che così Verdena verdevano in termini di integrità, di purezza, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che questo sia proprio un pensiero tossico, cazzo. In realtà questi pensieri siano del tutto sbagliati, perché se c'è una cosa che sarebbe bello vedere sono situazioni come quelle che abbiamo visto a X-Factor, cioè di una band che spacca tutto e Alberto che suona con loro. Quello che dico è, è già difficile fare rock'n'roll in Italia, no? Se chi ascolta il rock'n'roll anche, come dire, si ghettizza, non permette a nessun altro di ascoltarlo, beh, semplicemente sta accorciando la vita a tutti coloro che suonano ancora, a cui piace, diciamo, una certa tipologia di musica. Cioè, secondo me il lavoro che sta facendo Agnelli di portare cose che in Italia non si vedono in prima serata, di portare musica che in prima serata non c'è, credo che sia un lavoro importantissimo. Ci sono lì milioni di persone che guardano una band, un power duo che spacca tutto, che suona con un peso massimo di quello che è, diciamo, il rock alternativo in Italia. Beh, sinceramente, ma, chapeau, ma tutta la vita. Io ho questo esempio per spiegare, cioè, io probabilmente se non vedevo MTV, non vedevo i Green Day che suonavano con la loro chitarrina nel video, probabilmente io non avrei mai iniziato a suonare, voi direte giustamente, ma sti cazzi non suonare, però la musica poi dopo mi ha anche cambiato psicologicamente, mi ha salvato la vita, probabilmente, chissà dove era adesso se non avesse avuto la musica come sfogo, no? E questo potrebbe capitare a tante altre persone, la gente potrebbe star meglio semplicemente scoprendo la tipologia di musica che fa più a caso suo. Quindi se sei caricato dalla trap, vedi un trapper, ti gasi a bomba e trappi come un drago. Se ti piace spaccare tutto, alzare il volume, ti compri una chitarra, alzi il volume a secca e suoni col tuo miglior amico fino a quando non ti si spaccano le orecchie, trovi la tua via. Boh, quindi io veramente, niente, penso solo che bisogna combattere questi pensieri.